Distratta dalla pandemia e alle prese con la crisi economica, l'Italia si trova ad affrontare un controverso referendum costituzionale che cambierà il Parlamento, rimasto immodificato dalla caduta del fascismo. Domenica e lunedì si vota per ridurre il numero dei parlamentari, un taglio in entrambe le Camere che i Cinque Stelle rivendicano come un successo. L'Italia è il paese in Europa con il più alto numero di parlamentari direttamente eletti. Il taglio riduce il numero da 945 a 600, tra gli argomenti a favore del risparmio per le casse dello Stato, molti invece temono un indebolimento della rappresentatività. Quello che dovremmo preoccuparci di fare è mandare in quei luoghi persone competenti, persone che realmente abbiano voglia di rappresentarci e magari fare delle leggi che prevedano che l'assenteismo venga in qualche modo sanzionato, che ci siano i partiti che debbano seguire determinate regole. Il taglio dei parlamentari è stato già approvato in Parlamento ad ottobre, in quanto era una delle condizioni per formare il nuovo governo di coalizione tra Movimento 5 Stelle e PD. Secondo gli esperti si tratta di una mossa che tenta di dare una risposta a decenni di mala politica. È una riforma che vuole punire i politici. Si tratta di una riforma antipolitica o populista ed è per questo che è controversa, al di là del suo vero significato. Il referendum, oltre a evidenziare la crisi della democrazia rappresentativa in Italia, lascia aperte ancora molte questioni come la nuova legge elettorale che avrebbe dovuto affiancare il taglio dei parlamentari e una più ampia riforma sul funzionamento del Parlamento, considerata da molti necessaria. Elena Cavallone, Euronews, Roma.